Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Teleitalia. Ora Giuseppe Conte ci spiega anche il Natale, che come dobbiamo comportarci e così indica agli italiani quale la strada per rendere il Natale una festa più spirituale, quindi il ruolo di capo del governo a Conte non gli basta più, vuole essere anche il capo spirituale dell'italiano che vede in lui il Salvatore rispetto a diversi punti di vista e così allarga le sue competenze e diventa anche guida spirituale. Adesso vi racconterò il Conte guida spirituale. Il Presidente del Consiglio parla delle feste natalizie ormai imminenti spiegando un concetto che da tempo è sottolineato dalle autorità religiose, non trasformare il giorno della nascita di Gesù bambino in un'occasione di consumismo sfrenato, dice così il Premier in versione guida spirituale. Consideriamo la curva epidemiologica che avremo a dicembre, ma il Natale non lo dobbiamo identificare solo con lo shopping, fare regali e dare un impulso all'economia. Natale, a prescindere dalla fede religiosa, è senz'altro anche un momento di raccoglimento spirituale, spiega Conte parlando in collegamento a Futura Lavoro Ambiente Innovazione, la tre giorni della CGL. Ma non è tutto perché il Premier indica anche agli italiani qual è il modo giusto per trascorrere le feste. Dice il raccoglimento spirituale, farlo con tante persone non viene bene, quindi l'invito è a celebrare il Natale con meno persone possibile perché se no non ci si riesce a raccogliere spiritualmente. E così si palesa la nostra guida spirituale. Ma che non punti più alla Presidenza della Repubblica, che punti al Vaticano, che ne dite? Voi sapete che il nuovo Pontefice Massimo può essere eletto anche per acclamazione della piazza. Questa è una regola. Se tutta la piazza a San Pietro acclama qualcuno, diventerebbe Pontefice Massimo. Una piazza festosa che potrebbe acclamare la nuova guida spirituale Giuseppi, Giuseppi, no? Anche con Trump che incita il coro Giuseppi, visto che lui l'ideatore del Giuseppi. Ma così la guida spirituale, la versione spirituale di Conte forse non è casuale. Purtroppo questo Covid-19, che noi sappiamo grazie a chi ce lo ha regalato, sarà ancora a lungo. Si parla anche di una terza ondata a Natale, pensate un po'. E già adesso si sta discutendo di come festeggiare la venuta al mondo del Cristo. Qualcuno come Sandra Zampa, sottosegretaria agli interni del governo italiano, afferma che a Natale sarà concesso, sarà concesso, Gaudet Mater Ecclesiae, sarà concesso di riunirsi solo tra parenti di primo grado. In pratica, in casa ci potranno essere genitori e figli, gli altri no. Fratelli, nonni, nipoti non rientrano in questo vincolo, quindi il fratello di vostro padre no. Il nonno, il nonno, il nonno no, perché la nonna e il nonno non sono parenti di primo grado. Chissà cosa accadrà a quelle famiglie che hanno la fortuna di avere ancora i nonni. Beh, poi non è il numero di persone intorno a un tavolo a rendere materialistico, come dice la nostra guida spirituale Conte, il Natale. Beh, il trascorrere le first teratalizie tutti insieme non può essere considerato un momento spirituale. I momenti spirituali, ammesso che uno ce li abbia, sono da ritrovarsi nella solitudine, tra meme o dei momenti spirituali. Ma che il cenone di Natale venga definito un momento spirituale, beh, insomma, se lo dice però la nostra guida Conte a questo punto, da avvocato del popolo a pontefice del popolo. Ecco. Beh, anche per questa riflessione odierna del nostro Conte si sono scatenate anche delle polemiche. Giorgio Mulè di Forza Italia dice il premier, invece di fare da padre spirituale, da padre spirituale, agli italiani, pensasse a fare il presidente del Consiglio dell'Italia. Già abbiamo dovuto sopportare le sparate a mezzo stampa su pranzi matalizi non affollati e solo con parenti di primo grado, quindi fratelli e sorelle escluse. Oggi raggiungiamo davvero il colmo dei colmi nel ricevere il consiglio del premier su come trascorrere il Natale, che ci ricorda il presidente Giuseppe Conte essere un momento di raccoglimento spirituale e quindi farlo con tante persone non viene bene. E poi ha specificato il parlamentare che siamo arrivati alla catechesi dell'emergenza. Se ridimensionasse il suo ego eviterebbe di sentirsi un giorno Churchill e un giorno il santo padre. Conte che si sente il santo padre. Certo che veramente la politica italiana è veramente da ridere, è veramente da ridere. Il presidente del Consiglio che si sente pontefice massimo. Ebbè, queste sono soddisfazioni. Negli altri paesi mica hanno delle cose, mica possono vedere delle cose così. Ebbè, noi vediamo delle cose che gli altri paesi non possono neanche immaginare. Anche Anna Maria Bernini, che interviene sempre, ogni cosa c'è Anna Maria Bernini che dice qualcosa. Anche lei dice non bastava la improbabile letterina al premier diffusa da Palazzo Chigi di un bimbo preoccupato per la mobilità di Babbo Natale. Conte si è anche premurato di dire agli italiani che il Natale deve costituire non solo un'occasione di fare regali, ma anche di raccoglimento spirituale, per cui è meglio trascorrere con poche persone. E poi dice doppiamente inopportuno questo premier. Non è uno stato confessionale in cui l'autorità costituita ci può indicare come vivere le feste religiose e mai come quest'anno è necessario che chi può spendere di una mano ai commercianti in crisi a causa delle chiusure. Per cui se una raccomandazione andava fatta era proprio quella di alimentare i consumi facendo più regali. La Bernini ha concluso ribadendo che se quella di Conte voleva essere una battuta è suonata proprio male. Ma non era una battuta. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.